Su TikTok i sentimenti primordiali regnano sovrani come negli altri social network, occhio per occhio dente per dente, ne è un esempio ed è proprio quello che si sfrutterà per aumentare seguaci e mi piace. Mettendo mi piace e seguendo altri utenti che, meglio se usano hashtag tipo follo e simili ancora meglio, inevitabilmente una buona parte di essi contraccambierà o darà una sbirciatina. Fare tutto manualmente come auspicano i fondatori di questi social network è da Guinness dei primati, infatti si premurano di offrirci variegati pacchetti pubblicitari, ma nonostante tutto quello che vogliono farci fare, gli smartphone sono dei potenti calcolatori ed automatizzare dei semplici tocchi e strisciate è un attimo. Scaricato e configurata l'applicazione autoclicker, il profilo social potrà avere vita propria, sempre senza esagerare, perché l'inumano non è vendibile e l'esto verrà bannato, ma forse ci si riappropria di un pezzo della propria vita, da altri messo in vendita. Eseguire, come nel video, i seguenti passaggi. 1. Scaricare ed installare dal Google Play l'applicazione autoclicker. 2. Avviare l'app e creare le strisciate tenendo premuto il pulsante più ed i clics premendo il tasto più, organizzati in modo tale da simulare il comportamento umano mentre si scorrono i post smettendo i mi piace e seguendo altri utenti, salvare e nominare la configurazione, 3. Selezionare, avviare e testare la configurazione per mettere i mi piace e seguire in automatico. 4. Creare e configurare i tocchi e le strisciate per simulare i movimenti per rimuovere i followers. 5. Selezionare, avviare e testare la configurazione per rimuovere i followers. Declino ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose eventualmente occorsi a chi volesse imitare la procedura illustrata nel video che ha scopo di puro intrattenimento. 5. Aspetto i vostri commenti, i mi piace e le iscrizioni al canale. 6. A presto. Grazie per la visione. Ciao. Tricone Hola. ! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.